oh il mercato è una vecchia zona di caccia non che sia più molto da vedere velcro deve proprio aver fatto tabula rasa qui prima che lo sconfiggessimo battere un boss di un crimine come lui deve essere stato davvero difficile convincere i mercanti che possano tornare a lavorare qui finalmente sarà ancora più difficile probabilmente capper conosci questa azione molto meglio di me perché non ti occupi tu della sua ricostruzione eh perché no c'è una prima volta per tutto non può essere peggio che fare il gioco delle tre carte da rete di una spagna di uno spandico in cime quale di settimane sono state durissime anche io voglio aiutare ricostruire ma l'ultima volta che sono stati in quel mercato qualcuno ha cercato di comprare me è stato piuttosto inquietante ok allora riattiviamo la musica dunque l'obiettivo principale eliminare l'immondizia dalle strade nessuno ama spendere denaro in un posto a casa miglia da lettiera fidati parlo per l'esperienza personale elimina dei rifiuti ok vai e questo è andato no accumuliamo dindini dai accumuliamo dindini ci sono tesori incredibili in questo avvento di pancarelle ma al momento quella che copisce di più è la sola decrepita riparare per produrre ok allora ah ok ok allora vabbè possiamo già mandare a mettere le spaccola per lanciare la cosa dei rifiuti con apple jack possiamo già mandarla ok però adesso ti puoi collocare oh ecco oh ecco ecco fatto finalmente vabbè io direi che posso fermarmi ah no eh ah no no aspetta il verde pirata è ancora sotto cosa devo fare allora porta i frammenti di gioia ok i frammenti di magia fa i punti del mio gioco alle ragazze di questia ah va bene se lo dici tu vi faccio sapere quando riuscirò a sbloccarla eh alla prossima ora è tutto più luminoso hai fatto uno splendido lavoro so che ci impegniamo ancora di più poi diventerà ancora più luminosa ma a volte vorrei che avessimo un po' più di fortuna a proposito ed è un po' che non arriva uno dei pony in città vero? dai il benvenuto a Lucky Clover ok ok Lucky Clover ok abbiamo già delle bandiere allora uno due tre ok così abbiamo già ok così abbiamo già completato una missione ok 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 direi che possiamo anche fermarci qui ciao e alla prossima ciao e alla prossima